Grazie a tutti e anche noi di Aqua Foundation quest'anno arrivati ormai alla terza edizione di questo evento, abbiamo voluto legarlo a un progetto concreto che faccia una reale differenza e con i nostri partner WeWorld abbiamo selezionato un'iniziativa, un progetto in Cambogia per aiutare a ridurre l'inquinamento dell'acqua, portare acqua pulita e sicura ai bambini nelle scuole e realizzare anche uno studio sull'impatto dell'industria della moda visto che la Cambogia è uno dei paesi principali in cui si trovano le industrie tessili e senza rubarvi troppo tempo vi mostro il video che abbiamo realizzato dove le persone sul campo ci raccontano cosa vogliamo realizzare. Grazie. La Cambogia è un paese al mondo con una significativa presenza di industrie dei tessili che producono articoli finiti e ex-infiniti per molte case di moneta nazionale. Tuttavia la riprenditazione è sufficiente e la mancanza di studi approfonditi sull'impatto ambientale del settore tessile prendono una grave minaccia per il diritto della popolazione ad avere accesso all'acqua di qualità. Per affrontare questa emergenza, Apple Foundation ha deciso di allearsi con WeWorld per sviluppare un progetto mirato a garantire l'accesso all'acqua sicura per i bambini e le comunità cambogiane. La iniziazione infatti prevede l'installazione di avanzati sistemi di filtraggio dell'acqua nelle scuole e per le comunità, realizzazione di uno studio sull'impatto dell'industria tessili sulla qualità dell'acqua e anche realizzazioni rivise temeriche per i bambini delle scuole coinvolte. Da un lato, l'installazione di filtri garantirà immediatamente acqua potabile e sicura ai bambini delle comunità. Dall'altro lato, lo studio profondito sui rischi di contaminazione dell'acqua causato dall'industria tessili ci aiuterà meglio a comprendere le problematiche che poter agire di conseguenza. Inoltre, le visite mediche garantite per gli studenti permetteranno di monitorare la loro salute, identificare eventuali problemi legati all'esposizione ad acqua contaminata e a fare i trattamenti adeguati. Atta Foundation e Google World si intenderanno a tenere le materie fermate sull'evoluzione del progetto attraverso rep periodici illustrando le attività svolte nei risultati raggiunti. Il 100% dei fondi sarà destinato esclusivamente alla realizzazione di questo progetto. Grazie per il vostro sostegno e per contribuire a un futuro migliore per i bambini della Cambogia. Grazie per il vostro sostegno e per i bambini della Cambogia. Abbiamo scelto questo progetto perché è un progetto serio con un partner affidato. Prestigioso è che soprattutto dà il 100% dei fondi per la realizzazione di questo progetto. Noi per primi vogliamo fare un passo e noi siamo i primi donatori di un filtro che servirà per purificare l'acqua di una scuola. Questo progetto però, come diceva all'inizio Gabriele, vogliamo renderlo un progetto che ci unisca tutti per essere tutti felici per poter contribuire a fare qualcosa. E quindi vi invitiamo a partecipare con noi a questo progetto, a realizzare qualcosa. Nelle vostre sedie trovate tra i vari materiali che abbiamo distribuito la spiegazione di questo progetto con un QR code. È semplice e qualora semplice inquadrarlo come tutti voi sapete fare e partecipate con noi alla realizzazione di queste tre fasi del progetto che sono l'installazione dei filtri, la ricerca e le visite mediche come abbiamo detto. Questo progetto lo realizziamo noi, lo realizziamo insieme a voi, ma lo realizziamo insieme all'aiuto di preziosi amici e partner. Temera per una parte del progetto di sostenibilità e soprattutto dei nostri ambassador, che sono ambassador da tre anni, che sono Tudor e David, che chiamo qui sul palco. Ciao. Allora, presento brevemente Tudor e gli lascio poi la parola perché dato l'ora già vi ringraziamo per aver resistito fino adesso. E quindi Tudor ha iniziato con la sua brillante carriera nella Silicon Valley, in delle compagnie tech, Facebook, Salesforce, le più grandi compagnie che ci sono con una carriera brillante. A un certo punto è tornata in Europa, continua a fare investimenti, continua a occuparsi delle sue attività lavorative, ma soprattutto si vuole dedicare agli altri. Il suo partner David ha fatto una fondazione che si chiama la David Tudor for Good Fund, in cui si occupano di tutela di diritti umani e di natura, di salvaguardia della natura. E siamo felici di averli con noi come partner in questa iniziativa, che ringraziamo. Grazie, grazie. Grazie a tutti e molto grazie per aver dato l'opportunità di essere ambasciadori al livello internazionale di Aqua Foundation. Siamo molto felici di annunciare oggi che anche noi, con la nostra fondazione David and Tudor Fund for Good, parteciperemo a questo progetto molto importante di comprare filtri per acqua pulita in Cambogia. Allora anche noi compriremo un altro filtro, il secondo filtro, perché, come ha detto Giuseppe già l'ora è molto tardi, vorrei invitarvi di unirvi a noi a partecipare a questo progetto e di scanare il QR code su questo pezzo di carta. E se lo farete, noi, anche noi, vogliamo fare una cosa, vogliamo automaticamente raddoppiare quello che prendiamo da voi stasera. Allora, euro per euro, vi invito di fare la differenza per questi ragazzi, per questi giovani in Cambogia e vi ringrazio di essere con noi stasera. Grazie tanto.